Troppo timidi i segni di ripresa per l'economia del Salento nel 2010. Non c'è poi tanto da festeggiare, insomma, anche perché le ombre sono tante e tali che bisogna necessariamente dare una svolta decisiva per poter cambiare finalmente rotta. Come ogni anno, la Camera di Commercio fa il bilancio dello stato di salute del nostro territorio. Lo fa attraverso un dettagliato e certosino lavoro di indagine e monitoraggio racchiuso in due pesanti volumi, pesanti come pesante la sopravvivenza di molte nostre imprese il cui corso è ancora rallentato dalla crisi, dall'incapacità di sostenere la concorrenza, dalle scelte sbagliate di imprenditori spregiudicati e dalle non scelte della politica che non fanno altro che lasciare il Salento ai margini. I numeri segnati in rosso dal Servizio Statistica e Studi dell'ente camerale in collaborazione con l'Istituto Tagliacarne dovrebbero far riflettere tutti istituzioni, imprenditori e sindacati. Il PIL segna una flessione dello 0,6% portando Lecce al 94esimo posto nella graduatoria nazionale. Nonostante i micro segnali di ripresa dell'attività produttiva, la disoccupazione aumenta drammaticamente raggiungendo quota 17,7%. In un anno i disoccupati sono aumentate di 4.545 unità, così come l'escamotage della cassa integrazione con 10 milioni di ore. Aumentano l'esportazione del 10,7% ma si contano sulle dita di una mano le aziende del tessile abbigliamento calzaturiero che sono sopravvissute. Il TAC rappresenta davvero una sconfitta, nonostante gli innumerevoli tavoli istituzionali e gli accordi quadro. Il turismo va bene con 4 milioni e mezzo di presenza e l'8% in più rispetto al 2009, ma per risollevare il Salento non si può puntare tutte le carte sul turismo. vanno spesi con criterio ai fondi europei, fatte scelte ragionate per accelerare i tempi e colmare il gap infrastrutturale che ancora regna. Presidente, che bilancio è quello dell'economia salentina nel 2010? Ma è un bilancio che mostra dei timidi segnali di ripresa, però l'aggettivo timidi va molto bene, l'attributo timidi va molto bene. C'è una crescita per quanto riguarda il settore delle esportazioni e questo dimostra un certo dinamismo imprenditoriale, però quello che più preoccupa è l'occupazione. Abbiamo un'occupazione al 17,7%, abbiamo 4.500 lavoratori espulsi e questi sono dati da allarme sociale. e allora noi abbiamo bisogno che questi segnali di ripresa delle nostre aziende siano accompagnate attraverso anche una crescita dell'occupazione se no ho paura che l'economia continui a essere un'economia stagnante e i consumi continuano a non ripartire. Lei ha elencato anche tutta una serie di carenze che qui nel nostro territorio ci sono come il gap infrastrutturale, l'incapacità di sfruttare tutte le risorse della comunità europea, la politica che forse si distrae un po' troppo nelle polemiche. Sì, secondo me c'è bisogno di programmazione, è una cosa che io vado ripetendo da tempo. Noi continuiamo a lavorare sull'emergenza, continuiamo a lavorare sull'emergenza non tanto di oggi ma quanto di ieri e questo è ancora più tragico, e continuiamo a non darci prospettive di sviluppo a medio e lungo termine. L'occasione delle misure POR 2007-2013 sono sicuramente e vanno sicuramente in questo senso, cioè danno la possibilità invece di programmare, noi speriamo che vengano sfruttate soprattutto perché si dica che cosa si vuole fare da grandi. La mano in bocca per il TAC. Sì, purtroppo anche se c'è questo timido segnale, anche qui timido segnale di ripresa del TAC, nel settore delle esportazioni che ormai ha visto completamente il tracollo, perché le esportazioni, prima il nostro export si reggeva quasi esclusivamente sul TAC, con il tracollo del TAC c'è stato anche il crollo delle esportazioni, oggi le esportazioni crescono e una piccola parte di queste esportazioni si deve al TAC. Sicuramente sono quelle aziende che sono riuscite a ricogliocarsi nel mercato, attraverso marchi propri e soprattutto attraverso prodotti di altissima qualità. Ora, rappresentante di Union Camera e Camera di Commercio, qual è il messaggio quindi da lanciare? Ma il messaggio da lanciare è che ci sia una politica economica seria, una politica economica dove tutti quanti dobbiamo lavorare insieme, dove non ci possono né ci devono essere assolutamente divisioni, penso che analisi ne siano state forse fatte fin troppe, ora c'è bisogno che si attui la cura per il malato.